Maria Elena Monti e Marina Massironi in scena contro la violenza sulle donne. Sul palco del Teatro Petrarca lo spettacolo ad ingresso gratuito Il Marito Invisibile, scritto e diretto da Edoardo Erba, un'esilarante commedia sulla scomparsa della vita relazionale. Quando sorridi così è perché ti è successo qualcosa? Non mi dire che è entrato qualcuno nella tua vita. Una video chat tra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, qualche chiacchiere affinché Lorella svela di essersi sposata. Il marito però ha una peculiarità, è invisibile. Un'altra volta, allora sei tazza. Lo spettacolo fa parte del programma degli eventi sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, organizzato dal Comune con la Fondazione Guido D'Arezzo e l'Associazione Pronto Donna. La nostra scelta di questa commedia, che ci farà sicuramente passare un momento di ironia, un momento di piacevolezza, un momento di leggerezza, insieme appunto a tante persone, a tante donne. Grazie a tutti.